Febbo, sull'Agir e sulle nomine che riguardano l'Agir, voi tornate ad attaccare la giunta regionale e soprattutto il presidente D'Alfonso, nomine che arrivano in questo momento storico secondo voi non a caso? Non a caso perché il 10 giugno si vota in diversi comuni della regione Abruzzo e credo che i rapporti di forza che ci sono oggi verranno sicuramente cambiati, ci sarà sicuramente una maggioranza diversa e non si può fare un'elezione di un CDA che rappresenta il ciclo integrato dei rifiuti, cioè quello che incide sulla tasca dei cittadini con la famosa tassa sui rifiuti, che incide sulla salute dei cittadini, che incide sull'intero ciclo dei rifiuti, farlo 10 giorni prima di una competizione elettorale. C'è però di più, è un anno che chiediamo che ci sia chiarezza su quella che è oggi la norma che dovrà essere applicata per garantire ad esempio la rappresentanza di genere all'interno degli organi di governo, ma così come mancano ancora regole certe su chi potrà per davvero votare e anche sul fatto stesso che questa assemblea sia regolarmente costituita, in quanto non tutti i comuni, ma non sappiamo quali in realtà, hanno ad oggi adottato, recepito il regolamento dell'Agile. Quindi su queste cose noi riteniamo sia necessario da una parte rinviare, dall'altra fare immediatamente chiarezza per giungere ad una convocazione il prima possibile dopo le elezioni, dopo aver chiarito le norme che dovranno gestire quell'assemblea. Oggi avete radunato diversi sindaci, amministratori, primi cittadini di diversi comuni abruzzesi. Sì, per dimostrare che questo non è un problema di poco conto, è un problema che i cittadini e quindi i sindaci che rappresentano i cittadini sentono. Oggi quel documento è stato già firmato da 67 sindaci, ma altre adesioni stanno arrivando, perché qui non è una questione di appartenenza politica, ma è veramente un problema di mettere le mani in tasca ai cittadini su un servizio che incide sulla salute e su tante altre problematicità che tutti quanti conoscono.